Stanno tutti lavorando allo stesso progetto, sono quelli di Rosa Rubra, la cantina biodinamica d'Abruzzo. Il fatto che in ogni stanza della sede sulla Tiburtina Pescara ci siano decine e decine di postazioni internet la dice lunga sul mercato individuato. È mondiale. Questo progetto cosa prevede e che cosa dovrei fare io per aderirvi? Con questo progetto vogliamo introdurre il mondo fisico in quello virtuale come attraverso la tecnologia blockchain e gli NFT. Blockchain cos'è? È semplicemente una catena di certificazioni praticamente inespugnabile per la serie ciò che è mio è mio eccetera eccetera con quel che segue. Immaginate una bottiglia per ogni cubo che vedete. Sarà sempre vostra certificata e incatenata. NFT. Cosa sono? Sono certificati di garanzia virtuale. Quindi queste due bottiglie sono mie, queste due sono tue e hanno il loro numero. Queste invece sono sue. Io chiaramente posso vendere le mie a te così adesso ne hai quattro, tu le puoi vendere a lui o a lei così ne hai sei. Se ti va puoi regalarle e fai come ti pare. Ma perché dovrei comprare bottiglie di vino per quanto pregiate in questa maniera? Comprare queste bottiglie online significa lasciarle a noi per l'invecchiamento e ritirarle esclusivamente all'evento privato che si farà in tenuta con tutti i proprietari degli NFT delle bottiglie. Il vantaggio di avere da noi una bottiglia è che noi la conserviamo nel cavo della cantina in condizioni meteo adatte per l'invecchiamento del vino in bottiglia e queste bottiglie in effetti sono diverse da quelle che vendiamo nei nostri store perché sono numerate. Il vantaggio insomma sta che le bottiglie in questione sono nel posto giusto, in cantina, detto anche cavo e non in frigo o in dispensa che non sono proprio il loro posto giusto. I tempi del vino sono quelli che sono, dal cavo usciranno nel 2024 e a questo punto la domanda è d'obbligo. Quali vini fanno parte di questa collezione, di questa cantina apparentemente virtuale ma di fatto reale, esistono queste bottiglie? Assolutamente, sono nove etichette di nove vitigni diversi, il nome di ogni bottiglia è il vitigno, il nome effettivo del vitigno e abbiamo sia autoctoni abruzzesi che vitigni internazionali, quindi abbiamo il Montepulciano d'Abruzzo, il Pinot Grigio, lo Chardonnay, anche un Cabernet Savignon, un Merlot. Insomma abbiamo un cavo, firmato Rosa Rubra.